Salve, come è noto l'Istituto Superiore Stegno si compone di una pluralità di indirizzi a cui corrisponde la eterogeneità dei talenti dei nostri alunni. Abbiamo una FM SIA, tradizionale ragioneria, un MAT professionale di indirizzo elettronico ed elettrotecnico, abbiamo un CAT, il tradizionale geometra, questo a termini assieme alla sezione carceraria. A Cerda abbiamo un industriale, un ITE, un tecnico per l'agricoltura serale e un liceo delle scienze umane. Per cui ce n'è per tutti se vogliamo usare una frase semplice ma credo efficace. È una scuola dalle mille vocazioni e che risponde a mille esigenze. Se dobbiamo poi coglierne le caratteristiche peculiari interne, essa è caratterizzata da un forte sentimento identitario. E l'appartenenza alla scuola, il sentimento di appartenenza alla scuola che fa parte della cultura della scuola, dei docenti, degli alunni e degli ATA e dello Stenio, questo sentimento di appartenenza la rende una comunità coesa. L'insegnamento e l'apprendimento, da che cosa sono caratterizzati? Sicuramente da una forte laboratorialità. Una laboratorialità che si accompagna ad un obiettivo, Princeps, la maturazione della competenza dell'autoapprendimento. Per cui la nostra scuola, mirando prioritariamente a sviluppare nell'alunno l'autonoma capacità di apprendere ogni giorno, in ogni momento e in ogni contesto, fa orientamento costantemente. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Sono la professoressa Migliore, responsabile della sezione staccata dell'Istituto Stenio di Termini Merese. Noi ci troviamo a Cerda e abbiamo una sezione serale e due sezioni al diurno, Liceo delle Scienze Umane e Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e l'Elettrotecnica. Cosa caratterizza la sezione di Cerda? Si fonda essenzialmente su due parole, eccellenza e inclusione. Eccellenza perché valorizziamo quanto più possibile i ragazzi che mostrano ottime propensioni verso lo studio e questo ci dà grandi soddisfazioni, soprattutto nel momento in cui questi ragazzi affrontano i test d'ammissione all'università o fanno qualche concorso. Solitamente, con nostro grande orgoglio, loro si classificano sempre tra i primi. I ragazzi che abbiamo diplomato due anni fa, molti di loro già lavorano o alle Ferrovie dello Stato o all'Enel. Inclusione perché? Perché è una scuola che accoglie ragazzi dei paesi viciniori. Siamo a Cerda, quindi Montemaggior, Aliminusa, Caltavuturo, Termini Merese, Lascari, Campofelice, Collesano, Trabbia. È vastissimo il bacino d'utenza di questa scuola. Inclusione perché? Perché se arriva il ragazzino più fragile non l'abbandoniamo a se stesso. Viene curato, viene preso per mano e viene portato piano piano alla fine del percorso. Questa è la grandezza di questa scuola. Valorizzare chi dà e ha tanto, sostenere chi dà e ha poco. Questo è quello che ci caratterizza e di cui noi andiamo estremamente fieri. 1985, il primo anno che l'Istituto Tecnico portava dieci ragazzi a diplomarsi, io ero uno di questi. Dopo un'esperienza importante in questa scuola nel 1985 mi sono diplomato ed è stata veramente un'esperienza importante perché è quella che poi mi ha dato la possibilità di realizzare anche a livello lavorativo quello che oggi sono. Sono veramente felice. Oggi a 30 anni di distanza ritrovo una scuola, un istituto molto ben avviato, un lavoro eccezionale da parte dei docenti. Non posso assolutamente che dire che i ragazzi debbono veramente credere in questo istituto perché è un istituto che ti permette una preparazione e soprattutto una via verso il lavoro immediato. Per cui felicissimo di questo, felicissimo di poter testimoniare che a 30 anni l'istituto è ancora qui ed è in ottima salute. Ho visto diverse quinte, per cui significa che comunque il lavoro svolto dai docenti è veramente ottimo. Un qualcosa di importante anche per dire che ho voluto che anche mio figlio si diplomasse nell'istituto tecnico industriale. Oggi è laureato, per cui significa che comunque questo istituto crea veramente dei ragazzi molto molto professionali e molto in gamba. Io sono Francesca Pirrona e frequento il Liceo delle Scienze Umane di Cerda. Faccio parte della terza A, ovvero la prima classe del Liceo delle Scienze Umane che si è formata. Anche se io e le mie compagne eravamo un po' spesate all'inizio, subito dall'istituto tecnico elettronica ed elettrotecnica siamo stati ben accolti, ma anche dai professori con cui abbiamo bellissimi rapporti. Poi inoltre noi ci possiamo chiamare la scuola dell'accoglienza perché devo dire veramente con esperienza che nella nostra scuola ognuno si sente in un ambiente familiare, sicuro e protetto. Parlando del nostro liceo, noi siamo un liceo come tutti gli altri, facciamo filosofia, diritto, facciamo latino, però abbiamo una marcia in più, ovvero quella delle Scienze Umane, che è un insieme di quattro materie che sono psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia che diciamo ci danno una visione dell'uomo e della società molto più ampie e dettagliate. Questo liceo riesce ad aprirti la mente e farti vedere tutto sotto un punto di vista più bello e più aperto. Noi ci siamo trovati bene fin da subito e quest'anno devo dire che dopo tre anni che la scuola si è avviata le iscrizioni stanno andando molto bene. A proposito, se volete maggiori informazioni veniteci a trovare e noi vi aspettiamo. Allora io mi chiamo Elian Rasa, sono un alunno dell'IT, Istituto Tecnico di Elettronica e di Elettrotecnica. Posso dire che questa scuola con tutti i suoi laboratori è una scuola veramente all'avanguardia. Io in tutti questi tre anni, perché mi trovo al terzo anno di scuola, non c'è stata una lezione che non ho capito grazie ai laboratori, appunto perché tutto quello che facevo in classe lo venivo a verificare qua. Disponiamo di laboratori molto all'avanguardia, di costruzioni in pianti elettrici, di chimica, di fisica e tante altre materie tecniche, appunto oggetto di studio di questa scuola. Questa scuola molto spesso c'è da dire che in giro viene sottovalutata. Quello che posso dire io è di non fidarsi delle voci che girano e venire di persona qua a vederla. Siamo sempre aperti, potete venire quando volete a vederla.